Una brillante operazione congiunta tra il commissariato di Polizia di Formia e la squadra mobile di Latina ha messo a nudo il dottor Paolo Di Francia una vicenda di poco turpe, squallida. Siamo intervenuti a seguito dell'allontanamento da casa di una minore. Dopo averla trovato abbiamo ricostruito una vicenda di sfruttamento della prostituzione che ha portato nella mattinata odierna all'arresto di uno dei responsabili. La ragazza si era allontanata da casa, da questo episodio in là alle indagini. Una ragazza che veniva violentata da quello che all'epoca poteva essere il suo fidanzatino fino a prostituirsi assieme ad una coetanea. Le indagini sono in corso per fare luce anche su questo, no? Sì, per la sostanza la cosa inizia in maniera incosciente da parte delle due minori le quali piano piano si rendono conto della gravità della situazione in cui si stavano trovando e dalla quale non riescono a districarsi e ricevono anche una serie di minacce da parte dei loro acuzzini. La ragazza che dopo essersi allontanata decide con l'apporto di voi agenti ma anche degli specialisti del centro antiviolenza Silvana Mangano di votare il sacco. E' pare che questa turpa e squalida vicenda fosse iniziata da un anno a questa parte. Sì, con l'ausilio appunto di psicologi che ci hanno accompagnato nella ricostruzione dei fatti siamo riusciti a ricostruire questa vicenda che risale almeno un anno a questa parte. Una delle ragazze addirittura sosteneva dei rapporti sessuali cinque volte al giorno. Era un'attività costante e frequente, si parla di almeno tre incontri settimanali con punte in una sola giornata di cinque clienti. Intanto le indagini, come dicevamo, proseguono perché voi state cercando anche di fotografare il giro di clienti delle due minori. Sì, stiamo proseguendo le indagini sul quale manteniamo al momento il riservo. Le ragazze si prostituivano addirittura in pieno centro, in un fabbricato mai completato alle spalle di Via Vitruvio o nella zona del porto? Sì, non si tratta appunto di prostituzione raffinata d'altro bordo ma voglio dire di sesso rubato in zone veramente squallide, in case abbandonate dietro gli scogli del porto qui di Forno. E infine la rete, la rete per divulgare questa illegale e appunto squale da vicenda. In questo momento qual è, lei da rappresentante dello Stato, l'appello che vuole lanciare in questo momento alle famiglie che hanno in casa problemi con i rispettivi figli, coinvolti o presuntitali in queste vicende? Il rapporto con i figli costante, una presenza dei genitori e un dialogo con i figli senz'altro può consentire di prevenire situazioni che poi magari possono sfuggire di mano.